La pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, questa assemblea liturgica è plenugno alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella Città Santa. Chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Adesso ci prepariamo per ricevere la benedizione su questi rami di olivo, sulle palme, poi scendendo continuerò la benedizione. Dopo la benedizione, ascolteremo un brano del Vangelo, quindi non ci muoviamo. Dio Onnipotente ed Eterno, ve lo dici questi rami di olivo, queste palme e concedi a noi, che accompagniamo soltanto il Cristo, il nostro Re e il Signore, di giungere con noi alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Adesso ascoltiamo la parola del Vangelo, il Signore sia con voi.